Buongiorno a tutti gli elettori di San Cataldo, siamo Leonora Cuggino e Martina Camilleri, frequentiamo la classe prima del liceo artistico Filippo Iuvara. Ci hanno proposto di candidarci per rappresentare tutti i ragazzi frequentanti le scuole superiori ed essere portavoci delle richieste dei nostri elettori. Ci piacerebbe inoltre risolvere alcune problematiche come rimborso all'abbonamento per i ragazzi pendolari che, come vedrete nel video a seguire, ogni giorno hanno problemi a causa degli orari. Vorremmo anche migliorare i servizi per i diversamente abili. Maggiore interesse per gli edifici scolastici, ci piacerebbe in più inserire la raccolta differenziata nelle scuole, così da vivere in un ambiente scolastico più pulito. Ci sentiamo in grado di sostenere questo incarico perché ci medesimiamo nei nostri compagni. Se i grandi ci ascolteranno, avremo la possibilità di crescere insieme in un mondo più pulito e partecipativo. Votateci e non ve le pentiate! Grazie a tutti! ! 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 , ! Francesco Gimini. Alessandro Algaro. Quanti anni avete? 17. 16. Che liceo frequentate? Liceo artistico Filippo Iuani. Liceo artistico Filippo Iuani. Da dove venite? Canicata. Santa Caterina. Pensate che sia una cosa positiva il fatto di prendere l'autobus oppure no? Da un lato sì, da un lato no. Non proprio, cioè qualche volta. Per quale motivo? Perché si perdono ore di lezioni comunque all'uscita, perché gli orari sono quelli che sono. Va bene ragazzi, vi aspettate qualche cambiamento per questa situazione oppure no? No. Dipende. Sarebbe meglio se ci fosse. Sarebbe meglio se io voglio. Va bene, grazie mille ragazzi. Va bene, ciao.